Ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato agli aggiornamenti sui fatti accaduti in Veneto. Un altro gravissimo incidente stradale segna il territorio. Un'altra ragazzina giovanissima è rimasta coinvolta in un sinistro mentre stava andando a scuola. È accaduto nel Piovese, in provincia di Padova. La piccola studentessa di 14 anni era in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta da una macchina. Le condizioni sono apparse subito gravi. È stata trasportata all'ospedale di Padova, però poche ore dopo il suo ricovero il cuore si è fermato. E' permesso a Eleonora Chinello di riprendersi. Grande il dolore su tutto il territorio. E adesso in città a Padova parliamo dell'incendio, delle fiamme che sono scoppiate nella notte nel magazzino al piano seminterrato di Zara, nel cuore del centro della città. Vi raccontiamo quei momenti. Attenzione, prego. Attenzione, prego. Si è creata una situazione per la quale dobbiamo scomperare l'edificio. Preghiamo di abbandonare l'edificio immediatamente attraverso l'uscita più vicina. Alle tre di notte è scattata l'emergenza in centro a Padova per un incendio divampato nel magazzino di Zara. Sistema antincendio ai primi cittadini che hanno sentito l'odore di fumo hanno evitato un rogo di dimensioni enormi. L'allerta ai vigili del fuoco è stata rapida e sono arrivati sul posto in poco tempo. Il fuoco ha avuto origine nel magazzino Uomo che si trova al piano interrato. I pompieri hanno divelto la porta e hanno avviato lo spegnimento del fuoco. Le fiamme sono rimaste circoscritte al piano ma il fumo ha provocato numerosi danni estesi. Presente anche la polizia. Alcune famiglie sono state evacuate per ragioni di sicurezza. Al momento sono in corso le indagini per capire come sia potuto accadere. Nelle ultime ore sono stati diversi nelle varie province del Veneto i principi di incendi. Un altro caso si è verificato presso la sede dell'Inps in Sestier Santa Croce a Venezia dove è andato a fuoco il portone di ingresso per cause in corso di accertamento. L'allarme è stato dato da un dipendente che arrivato sul posto stamane per l'apertura ha visto il portone annerito. Aprendo la porta ha trovato del fumo prodotto dalle fiamme di un sacchetto dei rifiuti che era depositato all'interno e che aveva preso fuoco probabilmente per la penetrazione di calore dall'esterno. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e poi è stato eseguito un sopralluogo di tutto lo stabile con una termocamera per escludere altri focolai sul posto Polizia Locale e Polizia di Stato. E poco prima delle 6 sempre di stamane i vigili del fuoco sono intervenuti a Tiene in provincia di Vicenza all'interno di un'azienda di cromatura per l'incendio del quadro elettrico. Nessuna persona è rimasta ferita ma anche in questo caso è stato necessario un gran dispositivo di uomini e mezzi dei vigili del fuoco che hanno prontamente spento il rogo. Hanno evitato ovviamente l'estensione delle fiamme ai macchinari, danni da fumo all'impianto di aspirazione. Adesso parliamo di una protesta che si è svolta in centro città a Padova durante questo fine settimana. Migliaia e migliaia di persone contro il DDL Sicurezza. Guardate. Migliaia di persone hanno affollato il centro di Padova nel pomeriggio di sabato con una manifestazione per dire no alla DDL Sicurezza. Striscioni, slogan ma anche balli e musica per far sentire la propria voce. In piazza c'erano gruppi di attivisti, sindacati di base, studenti e movimenti per i diritti civili. Si sono riuniti per esprimere il loro dissenso verso le nuove misure. A sorvegliare la situazione numerose forze dell'ordine. Sul cielo della città anche un elicottero che ha tenuto monitorata la situazione dall'alto. Il nuovo DDL Sicurezza approvato dalla Camera sarà in Senato la prima settimana di novembre. Le norme inaspriscono le sanzioni per chi partecipa a cortei e introducono restrizioni mirate che secondo i manifestanti limiterebbero il diritto al dissenso. La manifestazione ha causato non pochi disagi ai commercianti del centro che hanno espresso le loro difficoltà provocate dall'impatto sul commercio in un sabato pomeriggio dove il caos è stato protagonista allontanando i clienti dai negozi. Siamo qui, era il minimo che potessimo fare per dire di no con i nostri corpi e la nostra presenza a questa tendenza sempre più pressante che non accetta il dissenso nonostante siamo in una democrazia ed è il caso invece di opporsi a tutto ciò non è accettabile. Spesso e volentieri vediamo un atteggiamento estremamente repressivo con un inasprimento di pene che già esistono e che a nulla di fatto serve se non a creare paura in chi vuole pacificamente, appunto anche pacificamente e soprattutto pacificamente, esprimere il proprio dissenso assurdo. Continuano le ricerche del trentenne Marco Breda scomparso da venerdì da Bovolenta in provincia di Padova. Nessuno lo ha più visto né sentito dato che il suo cellulare risulta anche irraggiungibile. Venerdì sera era uscito dall'abitazione in cui vive con i genitori se ne è andato fuori a bordo della sua opelastra bianca. Breda si sarebbe dovuto incontrare con un amico, questo però secondo quanto ha raccontato ai genitori l'amico non era però al corrente di nulla. I carabinieri della stazione di Bovolenta si sono attivati per la ricerca del ragazzo dopo aver ricevuto la denuncia di scomparsa dai genitori, dalla famiglia. Sono in corso ovviamente tutte quelle operazioni che vengono messe in atto nella ricerca delle persone scomparse. Sui social moltissime persone hanno condiviso l'appello lanciato dai genitori. Adesso andiamo a parlare di Abano Terme e del suo pronto soccorso dell'ospedale. il sindaco di Abano Federico Barbierato ha ufficializzato il ringraziamento al personale del Policlinico di Abano Terme per il lavoro che ha svolto durante la maxi emergenza sanitaria coordinata dal 118 di Padova conseguente all'incendio divampato nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre all'hotel Alexander dove erano presenti 273 ospiti. Siamo qui oggi a Telecittà e proprio questa mattina il sindaco del comune di Abano Terme ha riconosciuto un encomio a voi operatori del pronto soccorso del 118 in merito a tutte le azioni che avete svolto qualche settimana fa nel soccorrere le persone che si trovavano all'interno del bergo Alexander proprio ad Abano. Più di 265 persone sono state accompagnate attraverso un percorso di salute per risolvere i problemi respiratori causati dalle polveri e dal fumo che avevano respirato. Dottoressa Pacagnella. Sì è proprio così. Abbiamo avuto una notte di lavoro intenso, una notte in cui ci siamo trovati ad affrontare 273 persone che stavano dentro l'albergo e alle quali abbiamo prestato i primi soccorsi. L'abbiamo fatto allestendo un punto di triage e di primo soccorso esternamente all'ospedale di fronte all'albergo. Siamo intervenuti tutti quanti e ci siamo presi cura a 360 gradi di queste persone dal punto di vista clinico prima di tutto, dal punto di vista assistenziale umano in seconda battuta. Abbiamo ricoverato una trentina di persone presso il nostro ospedale e una quindicina le abbiamo indirizzate ad altri ospedali. È stata una notte importante ma che ci ha dato tante soddisfazioni. Tante soddisfazioni, tanto da avere questo riconoscimento da parte del sindaco. Lei come coordinatore infermieristico è stato svegliato nel cuore della notte, pronti, si parte. Non si pensa alla propria salute o incolumità fisica, si va perché è una vocazione. Esatto, ho ricevuto questa chiamata all'una meno un quarto, si parte immediatamente. Si va a fare soccorso e si tenta di capire cosa sta succedendo per ottimizzare e si fa partire questa grande macchina organizzativa che ha funzionato perfettamente. Senza intoppi. La felicità suppongo di questo encomio che è arrivato fresco fresco. Un riconoscimento dopo un periodo nel quale medici, infermieri e tutto il comparto è stato un po' distrattato. A noi infatti ci fa molto piacere aver ricevuto questo encomio perché ci rafforza nell'andare avanti nel nostro lavoro e anche per l'immagine che abbiamo nella nostra struttura e ci fa molto piacere averlo ricevuto. A Padova fuga di gas in via Palestro. Fortunatamente si è trattato solo di molta paura dopo che intorno al tardo pomeriggio di domenica si è verificata questa fuga in zona Palestro. Una spaccatura difficile da localizzare che ha fatto capire subito che si trattava di un danno importante. I residenti di via Lepanto hanno prontamente avvertito il 115 portando a un conseguente tempestivo intervento da parte dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e un team di tecnici con l'intento di limitare i danni nel minor tempo possibile. Le operazioni di sicurezza sono proseguite fino a notte inoltrata. E adesso andiamo in montagna con Emanuele Compagno che ci fa un po' il punto della situazione. Ottobre non è certamente il periodo di maggiore afflusso per il turismo in montagna proprio perché molti negozi sono chiusi o molti ristoranti preferiscono riservarsi le ferie proprio in questo periodo perché siamo lontani dal caldo dell'estate e quindi dalle grandi passeggiate in montagna ma siamo anche distanti dalla neve e quindi dai grandi weekend, dalle grandi settimane bianche del mese di dicembre, gennaio e febbraio i periodi appunto dedicati allo sci. E allora si viene in montagna però anche se il turismo è a molto di nicchia per assistere a questo fenomeno quello che noi vogliamo mostrarvi oggi il cosiddetto foliage ovvero il fatto che gli alberi assumono i colori autunnali tingendosi di rosso, di giallo e di verdi tenui che appunto virano verso il giallo. Qui in montagna si può ammirare e si può toccare con mano questo spettacolo della natura davvero particolare che scalda il cuore perché fa dipingere questo firmamento il firmamento appunto dell'orizzonte con dei colori naturali davvero molto belli. L'occasione quindi per venire qui dove siamo noi oggi a corte di Borca di Cadore per ammirare questo spettacolo della natura ovvero i colori dell'autunno. Ancora qualche settimana poi gli alberi si saranno spogliati dalle foglie e si aprirà la stagione invernale con l'inverno. Addirittura già da fine novembre si comincerà a sciare nelle zone di Colgallina qui vicino a Cortina d'Ampezzo. Un escursionista di 36 anni proveniente da Adria rimasto bloccato al buio abbandonato dal compagno sopra la ferrata di Punta Aglio alla Toffana di Mezzo a 2.900 metri d'altitudine. L'escursionista in contatto col SUEM ha fatto sapere loro che il compagno aveva proseguito e stava tornando. È stato dunque localizzato e recuperato dal soccorso alpino su una cresta sopra la ferrata. Dopo averlo assicurato è stato fatto tornare sul sentiero attrezzato per poi farlo arrivare fino al sentiero e successivamente a Valle. Nel mentre un'altra squadra ha raggiunto il compagno per verificare il suo effettivo ritorno. Dunque una vicenda che fortunatamente si è conclusa in maniera positiva. E adesso parliamo di solidarietà andiamo con Erika a Campodarsego in provincia di Padova. Guardate. Un evento speciale quello che si sta svolgendo oggi pomeriggio sabato 26 ottobre qui al centro sportivo Il Gabbiano di Campodarsego dove la nazionale italiana SIND ci incontra il mondo della televisione con la nazionale italiana Attori TV per un momento importante di solidarietà ma non soltanto anche per ricordare la tragica e prematura scomparsa di Sofia. Sindaco l'importante evento di oggi dedicato alla solidarietà importantissimo ma oggi è un momento anche per ricordare Sofia. Sì, allora questo rientra nella festa dello sport che annualmente l'amministrazione programma naturalmente l'abbiamo rinviata per il motivo che tutti conosciamo un motivo tristissimo che ha sconvolto la nostra comunità quindi abbiamo voluto comunque riproporla e legarla anche ad un ricordo a Sofia. Importante anche ricordare quanto questi eventi uniscano uniscano una comunità ma anche personaggi magari del mondo della TV che non hanno a che fare con il territorio che però si impegnano per il territorio. Beh, questa è la squadra la Nazionale Calcio Sindaci e la Nazionale Calcio TV fanno sempre attività di questo genere che riguardano la solidarietà abbiamo approfittato dell'amicizia che ci lega a Mirko Patron che è presidente dell'Associazione Nazionale Sindaci della Nazionale Sindaci e quindi abbiamo voluto fare questa cosa poi naturalmente l'avevamo programmata con congruo anticipo e purtroppo quello che è successo insomma ce l'ha fatta ribiare però è bello è bello soprattutto tutte le persone che si sono interessate a questo evento alle aziende che hanno donato e come naturalmente è lo slogan di questa iniziativa il ricavato sarà dato alle nostre scuole dell'infanzia e alla città della speranza. Come sta andando? Chi sta vincendo? Siamo due a due ed è dura soprattutto per il sottoscritto che non è allenato. Chi vincerà? Ma vincerà il migliore o forse ci sarà un pareggio? Vedremo Vedremo Grazie a voi Perché è importante organizzare eventi come questo? Beh è la mission che abbiamo noi come nazionale italiana sindaci è da 23 anni che pratichiamo solo partite in beneficenza e il nostro scopo è naturalmente di donare a chi ha bisogno e di dare una mano a chi ha bisogno anche la giornata di oggi parte del ricavato nella città della speranza che lo conosciamo molto bene è il nostro fiore all'occhiello del volontariato dunque ha bisogno di fondi e dopo abbiamo anche problemi all'interno del territorio del campo d'Arsego perché non abbiamo nessuna scuola materna pubblica abbiamo tutte le scuole materne che sono parrocchiali e come sapete il calo demografico ha portato a tanti bambini che mancano all'interno allora aiutiamo le parrocchie che non ci rimettano naturalmente che siano un po' più tranquilli è bello vedere come ci siano anche tanti personaggi anche del mondo della televisione del mondo della politica che si riuniscono per un fine così importante beh guarda io penso su queste cose quando cambia qualcuno c'è sempre la massima disponibilità di tutti dunque noi abbiamo un territorio che è molto disponibile con tutti al di là di qualsiasi tipo di iniziativa noi abbiamo anche tante aziende che ci hanno voluto bene perché effettivamente abbiamo raccaldato più di 30.000 euro non è facile in questi momenti per le aziende e andremo a dare la gioia ai bambini della squadra di infanzia e anche ai bambini della città della speranza che fanno un percorso per la ricerca che è fondamentale per la crescita di nuovi farmaci che ci aiutano a guarire e noi siamo veramente contenti lo facciamo con il cuore Moreno Morello allora una partita del cuore dedicata alla solidarietà ma come si stanno compiuti si porta bene perché è stato subito segnata una rete quindi bravi rimanete così rimaniamo in diretta adesso per due ore rimanete lì perché abbiamo visto che facilita il gol eh ma noi non ci muoviamo di qui sì anche perché con la insomma diciamo così con quello che c'è per terra oggi c'è terreno un po' pesante l'operatore non può scendere sulle calzature della giornalista perché vedreste delle cose sarà difficile staccarci un servizio infangato un servizio infangato sarebbe ma Moreno Morello ma insomma come si stanno comportando una partita del cuore per la solidarietà ma sono bravi c'è fair play si affrontano a viso aperto il fair play c'è la sportività c'è però stanno veramente giocando all'ultimo pallone ci stanno dando dentro stanno facendo un bello spettacolo anche dal punto di vista dello sport previsioni? al momento siamo in vantaggio noi siamo per me finisce in pareggio le squadre si stanno equivalendo dal punto di vista poi da quando sei arrivata a te c'è stato un agonismo ancora un'impennata di agonismo incredibile quindi rimani qui con noi perché telecittà porta fortuna sì senza dubbio e parliamo ancora di solidarietà ma parliamo anche di prevenzione andiamo a Santa Maria di Sala in provincia di Venezia con Erika Bortolato camminata in rosa in questa domenica di ottobre in Villa Farsetti a Santa Maria di Sala per aiutare la ricerca contro il tumore al seno ma non soltanto tutte quelle iniziative che servono per aiutare gli studiosi la medicina e oggi veramente tanta partecipazione e tanta emozione venite assessore siamo abituati a pensare allo sport come un'attenzione all'individuo invece eventi come questo ci fanno capire come sia veicolo attraverso il quale viene divulgato e sensibilizzato un importante messaggio come quello della ricerca sì hai ragione Erika come dici tu noi con i nostri gruppi sportivi di ciclisti abbiamo organizzato questo evento una camminata rosa come viene nominata posta per fare una raccolta per l'AIRC per sensibilizzare questo male che affligge le donne come ha accennato questa mattina il nostro dottor Fernando Bossa che è proprio il top del tumore al seno e con quello che abbiamo incassato viene tutto devoluto all'AIRC mentre l'organizzazione l'abbiamo fatta noi con le associazioni siamo molto contenti di come è andata perché abbiamo avuto più di 450 persone sì che siamo cresciuti rispetto all'anno scorso e il prossimo anno pensiamo di crescere ancora di più Sindaca un'ulteriore emozione l'importante evento di oggi a Santa Maria di Sala che qualche mese fa è stata anche battezzata città del dono certo e non solo siamo anche entrati nel circuito delle comunità attive quindi una grandissima partecipazione che mi riempie davvero di emozione e soprattutto un orgoglio per questi conferimenti di onorificenze che non solo come città del dono ma anche come comunità attiva aggiungiamo al nostro attivo e quindi un grande impegno dell'amministrazione per proseguire in una cultura non solo della prevenzione del dono ma anche della solidarietà e nelle azioni virtuose per raggiungere davvero un benessere per raggiungere uno stile di vita più confacente anche alla nostra salute finalmente tantissima partecipazione a questa iniziativa Assessore ci auguriamo anche per il prossimo anno di raddoppiare la cifra assolutamente assolutamente per noi è fondamentale arrivare alle persone coinvolgere il più possibile perché l'obiettivo dell'iniziativa è da una parte raccogliere fondi chiaramente da donare all'AIRC ma soprattutto sensibilizzare più persone che possiamo sull'importanza della prevenzione della diagnosi precoce del screening oncologico quindi più persone meglio prima è la prevenzione prima è l'individuazione del problema più ci sono possibilità di risolverlo quindi ci auguriamo di raddoppiare una notizia che arriva dal mondo dello sport il Padova si conferma capolista complice la dobbietta di Bortolussi subentrato nel secondo tempo i biancoscudati battono per due reti a zero l'Albino Leffe confermandosi capolista a più 5 dal Vicenza secondo continua così la striscia di risultati utili consecutivi dei patavini che ad oggi contano ancora zero sconfitte sottolineando ulteriormente il valore di questo gruppo la partita di Zanica è stata inoltre l'ennesima dimostrazione che c'è davvero bisogno di tutti per provare a raggiungere il tanto desiderato obiettivo chiamato Serie B e adesso parliamo di clima uno sguardo alla situazione generale il Veneto non è interessato direttamente da significative configurazioni sinottiche tuttavia la relativa prevalenza di quelle anticicloniche è sufficiente a rendere il tempo stabile con spazi di sereno anche ampi salvo nubi basse e parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli più che altro durante le ore più fredde si chiude questo spazio dedicato alle notizie dal territorio grazie a tutti voi per l'attenzione buona serata e arrivederci al prossimo appuntamento Grazie a tutti